Grazie a tutti Allora la tempistica Quando incontro Questo movimento è comodo perché ho una variazione A tra di un po' O Vestipi Vendate Un'altra 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 Hai handi Hai handi Uno 1 2 3 3 9 eh, esatto, bene così contatto contro ok e quindi mi raccomando da tenere è molto importante non lasciare una cosa di transizione al iniziale quando lei entra un po' di scopo poi guardo la mano uno ehi un'area di anticipo è difficile nel senso, ora quasi incontravamo la tempiera era molto difficile lavorare in mente adesso vado a sbagliare però entro di metà troppo pieno progressivo ehi ehi grazie 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 grazie